Il primo morto sul campo sarà il Jobac, il Jobac non è mai stato dentro nessun patto dell'anno del rete, il Jobac è un atto del governo e quindi è sostenuto dalla maggioranza che sostiene il governo, quindi non c'è. Però se non ci sono i fondi che vengono approvati nel... Ministro, solo un secondo, mi sta dicendo che non fa parte? Ministro, venga per cortesia, grazie. Ministro, sono un disoccupato. Lei è disoccupato. Ma non hai più dico da niente. Scusa, non sembro disoccupato. No, volevo bloccare.